Il messaggio che sta per seguire è stato rubricato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. I partiti di governo con fare malizioso, sono impegnati in una propaganda mediatica tramite media loro asserviti, facendo credere che in Italia sia necessario lo ius soli, ovvero dare la cittadinanza a chiunque sia nato sul suolo italiano. Rimarrete sconcertati nell'apprendere che in Italia i figli di genitori stranieri che hanno vissuto sul territorio italiano, al diciottesimo anno di età, se non sono delinquenti, possono chiedere la cittadinanza. Nel nostro paese dice lo ius domiciliei, che permette ai figli di immigrati di divenire italiani sulla base della semplice residenza nel nostro paese, anche se nati altrove. Lo ius soli permetterebbe di divenire cittadino italiano a chi nemmeno abbia mai vissuto in Italia, e che ora vive altrove senza conoscere la nostra lingua, solo sul fatto che la madre abbia partorito nel nostro paese. Una applicazione dello ius soli porterebbe frotte di migranti diretti in altri paesi europei, aggiungere appositamente in Italia per partorirvi, in futuro questa gente sarà a carico della previdenza italiana, otterranno una pensione e un trattamento sociale, pur non avendo mai vissuto in Italia, senza sapere la lingua e con genitori stranieri anch'essi mai vissuti in Italia. Lo ius soli permetterebbe ai migranti irregolari di altri paesi europei di evitare l'espulsione, semplicemente mettendo al mondo un figlio sul suolo italiano. Le lobby in Europa hanno bisogno di nuovi schiavi, un immigrato si adatta a vivere con un pugno di riso e 5 metri quadri. Non craviate ad una sola parola di ciò che vi dicono, distruggete questo messaggio. Hello?